Lo scenario in centro storico a Lucca è lo stesso a cui siamo abituati, nostro malgrado, dall'entrata in vigore delle misure restrittive per evitare il propagarsi del contagio da coronavirus. E ovviamente la Pasqua non ha fatto eccezioni, anzi intensificati i controlli delle forze di polizia per scongiurare che il bel tempo e la tentazione di abbassare la guardia dopo tanti giorni di reclusione forzata spingessero qualcuno a violare i divieti per concedersi una gita fuori porta. Ed il centro storico, ma anche le strade della Piana e quelle della Garfagnana, sono apparsi così come sarebbero dovute essere, vuoti. E questo nonostante sui social in molti abbiano riscontrato un insolito traffico nelle strade secondarie, in special modo prima di pranzo. Deserte le piazze e le strade che negli anni scorsi hanno visto riversarsi migliaia di turisti con il centro storico lucchese particolarmente attivo in questo periodo dell'anno. Ma il Covid-19 per il 2020 ha spazzato via tutto questo, lasciando il posto a pochi sparuti residenti che hanno fatto sgranchire le gambe ai bimbi o alla ormai interminabile sequenza di serrande abbassate. Quelle che in questo periodo erano le attività più impegnate adesso espongono i cartelli di chiusura. La domanda che in più si ripetono è capire quante di queste saranno in grado di riaprire una volta terminata l'emergenza.